Mario Olivieri, nei giorni scorsi il direttore della ASL Lanciano Vasto Chieti Flacco si è rammaricato del fatto che non ha ricevuto dal presidente della quinta commissione sanità dei complimenti ma soltanto la richiesta di dimissioni. Lei come commenta? Il mio pensiero sul direttore l'ho già espresso e non è la prima volta. Lui deve solo avere l'umiltà di lasciare tutto e andare via perché ad oggi dopo due anni e mezzo, quasi tre anni di amministrazione d'Alfonso non ha portato niente a Vasto. Ha solo tolto ai vastesi e alla sanità vastese a cominciare dal reparto di radiologia, chirurgia, la geriatria, tutti i reparti che più ne ha più ne metta perché non è riuscito ad integrare, ad aggiungere niente. Ha solo tolto. Vogliamo parlare poi della scuola infermiera, motivi per il quale voleva essere ringraziato da me. Abbiamo trovato una soluzione in extremis e dovrà ancora spiegare come mai molti altri servizi che noi paghiamo gli affitti per la scuola infermiera di Vasto. Bisognava assolutamente restituire i locali. Vogliamo poi parlare del motivo per cui oggi siamo venuti qua. Oggi stiamo parlando dell'emodinamica e naturalmente se ne parlava era pronto tre anni fa. Oggi siamo ancora a babbo morto. Non si capisce come mai non si riesce ad andare avanti. Ovvero io lo so perché non si va avanti. Però il direttore generale niente fa per andare avanti. Ora se ci sono altri questo non è dato sapere. Vogliamo parlare dell'ospedale, costruendo l'ospedale di Vasto che adesso naturalmente stiamo aspettando Lanciano, stiamo aspettando altre realtà. L'ospedale di Vasto c'è un progetto da 20 anni e credo che non posso aspettare più un minuto per essere realizzato. Va da sé che io non ho un motivo, non ne ho uno dei motivi per non solo non ringraziarlo ma per non chiedere le sue immediate dimissioni. Assessore Silvio Paolucci, questa mattina a Vasto un incontro promosso dal dottor Ugo Aloè e dall'onorevole Maria Amato per tornare a chiedere a gran voce la sala emodinamica a Vasto. Una sala che permetterà di salvare i pazienti. I 90 minuti saranno fondamentali. Quindi questa sala emodinamica a Vasto si farà oppure no? Intanto mi permetta un elenco di sei punti e di sei fatti per l'ospedale di Vasto e la sanità del Vastese. Intanto perché ieri abbiamo avuto il definitivo assenso, l'accordo di programma per la costruzione del nuovo ospedale, cosa che in 30 anni non c'è mai stato. In secondo luogo noi abbiamo attivato questo governo regionale sia la lungodegenza che il percorso assistenziale dell'Ictus con la Stroke. E anche in questo caso mi attenderei da loro due un applauso forte al governo regionale per questi risultati. Poi ci sono gli obiettivi dell'ulteriore parte della legislatura. Gli obiettivi riguardano certamente il punto nascita e noi e non altri abbiamo coperto con delle risorse della regione a fine del 2016 con un milione e mezzo di euro quei fondi stanziati e utili perché parta la gara. Certo ci vorranno i mesi per costruire, per lavorarci su. E il secondo obiettivo la costruzione della sala polivalente per consentire anche l'attivazione dell'emodinamica. Sono gli ultimi due obiettivi che ci residuano, atteso che nella programmazione sanitaria vasto che non aveva un bacino di riferimento secondo le leggi nazionali di 150.000 abitanti è stato classificato DEA di primo livello da questo governo regionale non ospedale di base che pure era la classificazione prevista dallo stretto regime delle norme nazionali. Ecco perché io penso che qualsiasi tipo di confronto non deve essere strumentalizzato. Intanto va riconosciuto quello che noi e mai altri hanno fatto per Vasto in questi 28 mesi e poi ovviamente darci altri obiettivi. A Vasto c'è una politica che è stata ben presente in regione per decenni eppure questi risultati non hanno mai ottenuto. Non hanno ottenuto un DEA di primo livello, non hanno ottenuto il via libera e i soldi per costruire il nuovo ospedale, non hanno ottenuto la strocco, non hanno ottenuto la lungodeggenza. Noi intanto l'abbiamo ottenuto questi quattro obiettivi, gli altri due che residono li otterremo prima della fine del mandato.